buongiorno a tutti mi chiamo marta farina e sono un'illustratrice bellunese partecipo volentieri al progetto restart dolomiti che prevede la raccolta di molte opere d'arte non solo che andranno all'asta villa patta gennaio nel mio caso presenterò un'opera che si chiama la cascata che rappresenta una donna sotto forma di cascata ed è realizzata ad acquerello e a collage la troverete sicuramente in mostra a villa patta fra un mese circa partecipate numerosi perché questo progetto è importante per far ripartire la nostra provincia dopo i danni del maltempo che sono stati devastanti a fine ottobre vi aspettiamo numerosi a villa patta io e tutti gli altri grazie a tutti